Benvenuti nel mondo del Dynamics BIM. Il Dynamics BIM è un attrezzo ginico multifunzionale, innovativo, che è anche il bagaglio professionale del reabilitatore e del reeducatore nell'ambito di risordini posturali, attivando notevolmente il sistema polisentriaco equilibrio e di conseguenza la stabilità della muscolatura arachidia profonda con un metodo di lavoro incentrato sul cuore. Permette inoltre, catalizzando il training, un reclutamento muscolare nettamente superiore rispetto a quello tradizionale. Il Dynamics BIM, attenzionando la biomeccanica e la tisologia della corona vertebrale, mette la stessa nelle condizioni di partecipare in modo attivo al riorgono del sistema torneo posturale. La sua azione disequilibrante durante l'esecuzione dell'esercizio stimola il sistema proprio eccettivo spinale in modo differente di quanto accade quando lo stesso esercizio viene eseguito in posizioni stati o in piedi. Lo scopo è quello di stabilire che l'inusuale attivazione del sistema pro eccettivo implica un reclutamento ricesso della muscolatura paravertebrale profonda del tentativo di trovare un nuovo equilibrio. Il nostro obiettivo, utilizzando l'instabilità del Dynamics BIM e la posizione del gruppo sul pino del paziente, è importantissima, è quello di creare in una situazione di massima turbolenza una nuova forma di instabilità che annulli i compensi posturali memorizzati dal paziente e agevoli la creazione di un nuovo ordine stabile, efficace e se possibile autodattativo.